presentare un libro non è mai una provocazione viva i libri, viva la cultura, viva la libertà di pensiero e di parola sempre ci vediamo più tardi anche per scurati Salvini buon lavoro, certo e perché allora non ha parlato? chiedetelo a chi non l'ha fatto parlare ah quindi qualcuno non l'ha fatto parlare buon lavoro qualcuno non l'ha fatto parlare secondo lei ragazzi, buon lavoro ma qualcuno non è stato a farlo parlare secondo lei Salvini ecco, dove? Ministro, ma qualcuno secondo lei ha censurato scurati quindi? stop e stop